Capita spesso che un prodotto, all'uscita del modello successivo, magari nuovo solo nel nome e non nella sostanza, diventi improvvisamente vecchio. I possessori della Leica M8 possono sentirsi al riparo da questa eventualità. Al costo di 1200 euro, Leica propone un vero aggiornamento del loro prodotto, con l'installazione di un nuovo display in vetro zaffio, di nuovo votturatore ed un nuovo firmware. Il servizio prevede ritiro, aggiornamento, eventuale riparazione e riconsegna della fotocamera, che guadagna due anni di nuova garanzia. Questo per un prodotto fatto per durare nel tempo, come dimostrano le nostre immagini. Grazie.